Presentato al Comune di Napoli il rapporto conclusivo del progetto pilota Voci contro il crimine che l'Istituto di ricerca Unicri delle Nazioni Unite ha sviluppato assieme al Comune col contributo di fanpage del Mattino e di diverse associazioni del territorio. L'obiettivo principale dello studio era quello di analizzare le vulnerabilità dei cittadini napoletani ascoltando le voci di coloro che hanno subito violenze o soprusi oppure vi hanno assistito in prima persona. Io la prima volta che ho parlato dell'omicidio di mio fratello è stato dieci anni dopo l'accaduto con la mia psicoterapeuta che era incredula nel sentire che prima di allora non avesse aperto bocca. Questa per noi è anche un'opportunità di mostrare che Napoli può diventare un esempio perché le vittime possono indirizzare questo cambiamento e possono aiutarci a prevenire il crimine. Questa iniziativa per me è fondamentale perché è un'iniziativa che si occupa di prevenzione del crimine e nelle quali le vittime che occupano una posizione centrale nella componente giudiziaria delle vicende criminali non hanno solamente il ruolo di coloro che portano il peso della criminalità ma hanno la loro voce, è un motore di cambiamento e la loro esperienza può diventare una componente di un processo di prevenzione e di assistenza. Dal documento emerge che in tre casi su quattro il reato si svolge in un luogo pubblico. Fra i reati più diffusi prevalgono rapina, scippo e borseggio ma anche gli atti di vandalismo. A seguito della denuncia del reato, la fanno tre vittime su cinque, la maggior parte dei colpevoli viene arrestata. Ma la repressione e la presenza delle forze dell'ordine, benché invocati da buona parte degli intervistati, non è vista come la soluzione al problema. Spicca invece il desiderio di affermare la cultura della legalità e di aumentare la giustizia sociale. Io faccio sempre miele parole di un grande educatore che diceva che il fine dell'educazione è tutto ciò che libera, è tutto ciò che unisce. E credo che il mettere in campo le esperienze educative della Chiesa e non solo, è l'occasione per dire che abbiamo bisogno di liberarci da falsi modelli che ci inducono a voler avere ad ogni costo quello che non ci serve e fare comunità quanto più possibile. Un'analisi che è molto sociale e culturale, quindi da un quadro profondo di come si può contrastare il crimine, stando vicino alle vittime in modo concreto, stando vicino ai giovani, fornendo alternative di lavoro, soprattutto anche culturali e come la lotta al crimine non è solo delle istituzioni, della politica, della magistratura, delle forze dell'ordine, ma passa attraverso una rivoluzione culturale, quindi un lavoro importante e Napoli si contraddistingue per essere prima linea anche nella cooperazione internazionale per il contrasto al crimine e soprattutto al crimine organizzato.